Hai messo sotto qualcuno? Hai messo sotto qualcuno? bravi bravi bravissimi ma tutti i giorni adesso oggi è come da fallo tutti i giorni proviamo sei pronti? vai vai Antone che ci sta inquinando si vai 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 vinciai vai hai ragione vai vai suona suona Anna spostati un po' scusami non so il tuo nome costanza e poi ah si si che ne sapete tua sorella ha fatto festa oggi radetta però poi Gioventù come va possiamo sapere il suo nome Stefania De Rico di Schitella di Gaetano mi sei fatto il tuo aiutante mettiti in ordine attento pettine stru abbiamo recuperato a Salvatore e a Carino che si è strappato ma non i pantaloni si è strappato qualcosa sono solo a campo andiamo andiamo vai facciamo anche servizio da croce rossa vai Pasquale vai Pasquale la cosa l'albero di San Francesco è da queste parti si sta in piazza dove si fa l'evento là giù sta ah si oh cacchio la vicina sotto la benzina va bene adesso lo da vedere chiedi vai Matteo dove l'hai lasciata tua moglio vai davanti l'hai lasciata l'hai lasciata davanti l'hai lasciata l'hai lasciata davanti Ahahahah